Benvenuti su News Flash Italia. Vi invitiamo a lasciare un like, commentare e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Grazie! Chiara Ferragni, ancora una volta al centro delle speculazioni, per un regalo prezioso ricevuto dal suo presunto nuovo compagno, Silvio Campara. Attualmente a Londra, come testimoniato dalle sue storie e foto su Instagram, l'influencer sembra vivere un momento di serenità. L'attenzione dei fan e degli esperti di gossip è stata catturata da una giacca vintage Ferrari, che Chiara ha indossato in uno dei suoi ultimi post, accompagnandola con la didascalia o una nuova giacca preferita. Ma il dettaglio che ha fatto scattare le speculazioni è la possibile connessione tra questo capo e Silvio Campara. La giacca vintage della Ferrari è diventata il simbolo del legame tra Chiara e il suo nuovo compagno. Secondo le indiscrezioni, questa giacca sarebbe un regalo di Silvio Campara, l'imprenditore con cui Chiara sembra aver ritrovato il sorriso dopo un periodo complicato. Dejanira Marzano, esperta di gossip, ha condiviso uno screenshot di una conversazione con una follower, la quale sosteneva che Silvio Campara colleziona auto e memorabilia del marchio Ferrari. Silvio è appassionato e colleziona Ferrari, sono certa che la giacca sia sua o regalata da lui, sicura al centoto, si legge nella conversazione. Questo dettaglio ha alimentato le voci di un legame romantico sempre più forte tra i due. Nonostante i numerosi indizi social, Chiara Ferragni continua a mantenere un profilo basso riguardo alla sua vita privata. Pur non menzionando direttamente Silvio Campara, sembra evidente che ci sia qualcosa di speciale tra loro. Fonti vicine alla coppia affermano che Chiara e Silvio siano innamoratissimi, ma preferiscono vivere la loro storia lontano dalle luci dei riflettori. Dopo la separazione con Fedez, l'influencer ha adottato un approccio più cauto rispetto al passato, quando condivideva molti momenti intimi sui social. Ma nonostante la riservatezza, la giacca dell'amore non è passata inosservata. L'attenzione dei media e dei fan si concentra ora sul futuro della relazione tra Chiara Ferragni e Silvio Campara, che, secondo alcune voci, va avanti da diversi mesi. Campara, che avrebbe lasciato la moglie Giulia Lucchi per vivere a pieno questa storia d'amore, sembra aver conquistato il cuore della Ferragni. E, mentre i fan aspettano impazienti un annuncio ufficiale, Chiara continua a godersi la sua ritrovata serenità, lontano dai riflettori, almeno per ora. Inoltre, le speculazioni sull'accordo con Fedez hanno complicato le trattative per il divorzio. Grazie a tutti.